Non di solo Google si vive e quindi eccoci a provare il nuovo Huawei Nova 9 SE, uno smartphone interessante che mi ha lasciato un'impressione diversa rispetto al passato. Scopritelo in questa recensione completa, se volete supportarci il consiglio è quello di iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Non ci può essere una bella recensione senza un bel unboxing, quindi partiamo da qui all'interno ovviamente subito lo smartphone, poi abbiamo una scatolina che contiene all'interno, indovinate un po', una cover in silicone trasparente, sempre apprezzata. Eccola qua, leggermente tagliata qua su perché poi qui c'è la capsula auricolare. Poi abbiamo il cavo USB-USB-C ma soprattutto questo che è l'alimentatore, se mi riesce, forse, chissà, in questa vita, l'alimentatore da ben 66 Watt e devo dire anche molto compatto. Ed eccoci qua quindi finalmente a provare un nuovo smartphone di Huawei, questo è il Huawei Nova 9 SE, Nova 9 gli è proprio piaciuto tanto da doverne fare una variante SE, è comunque uno smartphone diverso, quindi comunque lo tratteremo come tale. Esteticamente però è riconoscibilmente uno smartphone Huawei, è riconoscibilmente uno smartphone del brand Nova. Qui abbiamo questo retro in vetro che è veramente bello. Devo dire, io non sono un fan degli smartphone lucidi perché trattengono molto le impronte, ma questo è veramente ben fatto e tra l'altro sì, ovviamente essendo lucido trattiene un po' le impronte, però guardate, ci vuole dell'impegno per far sì che rimanga un'impronta e poi si pulisce molto facilmente. 7,9 mm di spessore con il modulo della fotocamera, lo vedete, abbastanza sporgente. Il profilo, non so dirvi se è in metallo, probabilmente sì, ma è comunque sicuramente verniciato in plastica. Abbiamo il tasto di accensione con il bilanciare del volume, con il lettore di impronte digitale, il bilanciare del volume, sopra il carellino della doppia nano SIM ibrido, quindi potete scegliere fra due nano SIM o una nano SIM o una micro SD. Qui la capsula auricolare, il secondo microfono pulito sul lato sinistro e sotto la porta USB-C, il primo microfono e il primo speaker. Come vedete non c'è un jack audio per le cuffie. Pesa 191 grammi, che è un peso comunque tutto sommato abbastanza contenuto per uno smartphone veramente importante come dimensioni, 164,6, 75,6. Andiamo a sbloccarlo mettendo il dito sul lettore di impronte digitali. Eccolo qua, si è sbloccato in modo rapido e preciso. Vi racconto le sue specifiche tecniche. Abbiamo un processore Snapdragon 680, octa-core da 2.4 GHz con GPU Adreno 610, che è un po' il punto, diciamo, basso, negativo di questa scheda tecnica. Non solo perché non è un grandissimo processore e le prestazioni sono quello che sono, ma anche perché non è dotato di 5G. Sul lungo periodo va abbastanza rapidamente in una sorta di thermal throttling, ma poi la potenza non diminuisce praticamente più nel tempo. Quindi diciamo che le prestazioni calano rapidamente, ma poi rimangono quelle stabili nel tempo. Comunque prestazioni non altissime. Però di contrappeso invece abbiamo ben 8 GB di RAM, 128 GB di demora interna espandibili tramite SD, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.0, c'è l'NFC supporto ai pagamenti tramite la carta Curve, a cui potete poi associare altre carte di credito, e il lettore di impronte digitale sul lato che vi ho già raccontato. Il display è un ampissimo 6.78 pollici di diagonale, uno dei display più grandi in circolazione. Siamo veramente ai limiti del tablet. Vi ricordate, forse sì, forse no, quando i tablet erano da 7 pollici. Ecco, qui siamo a 6.78 in formato ovviamente 29. Schermo IPS, devo dire però veramente, veramente uno schermo molto, molto buono. Non sembra veramente un IPS, sembra un AMOLED. Devo essere sincero, ottimi angoli di visione, buona la luminosità, regolazione automatica molto buona. Il contrappasso, se vogliamo, è che è uno schermo a 90 Hz, con però prestazioni di sistema non così rapide, non così scattanti, da riuscire a dare veramente risalto a questi 90 Hz. 270 Hz invece il touch sampling, la risoluzione Full HD+, 1080x 2388 pixel. Comunque, il display è sicuramente uno dei punti più interessanti di questo dispositivo. Interrotto da un piccolo foro lassù per la fotocamera frontale. Il software, il software è Android 11, personalizzato con MUI 12.0.1 con le patch di febbraio 2022. È quindi il classico Android Huawei, non è Harmony OS, non ci sono, devo dire, funzioni particolarmente avanzate. A me, diciamo, ora farò anche un escursus sulla parte servizi Google, servizi Huawei, eccetera, eccetera, ma devo dire che mi piacerebbe comunque vedere più funzioni, a prescindere da quali servizi ci sono, da quale app posso usare, fatemi un sistema più completo. Abbiamo la bar laterale, qui abbiamo che si attiva tenendo premuto il gesture per andare indietro, abbiamo il multifinestra, la modalità ad una mano, ma poi, diciamo, si ferma un po' lì. Per quanto riguarda servizi Google, servizi Huawei, devo dire che, siccome non escono più tantissimi smartphone Huawei, passano dei mesi fra una prova e l'altra, e devo dire che forse è la prima volta in cui mi sono detto ma a me qui non mi manca niente. Certo, sul lungo periodo probabilmente ci sarebbe quell'app che mi dico ah, questa non c'è, o quel servizio Google, però, nell'utilizzo sul momento, per la settimana di utilizzo che ho fatto, devo dire che mi sono trovato bene, ho ritrovato anche la mia app Spark, che è quella che uso su Mac e su iPhone, e, diciamo, mi sento a casa, inizio a sentirmi a casa, inizio a non sentirmi completamente spaisato, anche perché, essendo un utente sia Android che iOS, sono abituato a non essere totalmente dipendente dai servizi di Google. Ovviamente dovete aprire AppGallery e scoprire se quello che per voi vi serve c'è, perché potrebbe non esserci, e in quel caso ovviamente non potrei, nessuno potrebbe aiutarvi. Certo, ci sono gli APK, ma alcune funzioni magari sono legate ai servizi Google, anche se non sono servizi di Google, quindi ovviamente sempre attenzione a questo punto. Parliamo di fotocamere, abbiamo quattro sensori fotografici, un po' nascosti, due in evidenza, due nascosti, chissà perché questa scelta di evidenziarne due e poi di metterne altri due, che sono inutili perché sono due, due megapixel, metterle comunque e tanto non si vedono. Ma chi se ne frega, mettetene due e buttate via questi sensori, risparmiate, mettetemi una batteria più grande, non lo so, che me frega a me di queste due fotocamere qui. Sensore principale, 108 megapixel, F1O 9, 8 megapixel, 2,2 invece, la grandangolare, 8 megapixel, F2,2 la grandangolare. 16 megapixel, F2,2 invece, la frontale. Questa è l'interfaccia di Huawei, classica, tasto per andare alla grandangolare, salto non velocissimo fra una fotocamera e l'altra, gli zoom 2x, 10x, sono molto più rapidi, perché? Perché sono software, non ci sono fotocamere zoom, non deve quindi sostanzialmente davvero cambiare fotocamera. Interfaccia classica, semplice, fruibile, in modo abbastanza comodo e anche comunque veloce. Come vengono le foto? Le foto vengono bene, con eccellente luce, però diciamo che questa è un po' nobvietà, perché nel 2022 smartphone che facciano brutte foto con ottima luce, beh, sarebbe, sarebbe gravissimo. Il problema è che qualsiasi variazione di qualità della luce pesa su questo sensore fotografico, ed è veramente un peccato, perché comunque, quando ci schiaffi dentro una 108 megapixel, quantomeno mi aspetto... insomma, mi aspetto certi risultati, no? Ok, i megapixel non sono tutti, ma non sono tutto, ma se mi metti una 108 megapixel mi vuoi star a significare in qualche modo che comunque è uno smartphone che farà foto di un certo livello. Con poca luce, neanche la modalità notturna può aiutare particolarmente questo smartphone, gli scatti non sono interessanti, la grandangolare 8 megapixel sono pochi, e la definizione bassa si vede. Insomma, non sono rimasto particolarmente entusiasta da questa fotocamera, a corredo c'è anche il fatto che la parte video invece è peggio, perché sono solo Full HD, sono solo 30 fps e sono anche molto poco stabilizzati. Insomma, è una fotocamera che per i video va bene solo se proprio, proprio, li fate con ottima luce e senza movimenti particolari. L'audio è mono, è garantito solo da questo speaker qua sotto e la qualità è ok, niente di sensazionale. Vado un po' veloce, perché comunque è uno smartphone appunto che non ha particolari caratteristiche di rilievo che meriti, secondo me, raccontare più di altre. È comunque uno smartphone di fascia media, medio-bassa, quindi è comunque una considerazione che vale per tutti, non solo per lui. Arriviamo a parlare di batteria. 4.000 mAh che quando ho letto la scala tecnica mi sono detto cosa? 4.000 mAh su uno smartphone così grande? Ci poteva stare una batteria più grande. Non perché ce ne fosse bisogno, perché in realtà l'autonomia è buona. L'assenza di servizi Google, la presenza di servizi Huawei, fa sì che l'autonomia sia assolutamente buona. A fine giornata ci arrivate anche con utilizzo intenso. E in più c'è anche un alimentatore e il supporto a ricarica rapidissima a 66 Watt, quindi molto bene da questo punto di vista. La mia considerazione è, con uno smartphone così grande, forse ci stava anche una 5.000 mAh e a quel punto poteva veramente diventare un battery phone. E quindi questo era Huawei Nova 9 SE, uno smartphone, ovviamente non per tutti, bisogna sapere cosa si fa, non avendo i servizi Google, però non è una missione impossibile. Alla fine basta, come vi dicevo, pensare all'ecosistema di iPhone dove i servizi Google non sono integrati nel sistema, eppure viviamo lo stesso. Ovviamente il numero di applicazioni è molto differente e quindi bisogna assolutamente essere sicuri che quello che ci serve qui ci sia e che funzioni. Uno smartphone con comunque degli alti e dei bassi, un processore non potentissimo, l'assenza di 5G, l'assenza di jack audio, tanto per fare qualche considerazione. Tutto ovviamente si giustifica però con il prezzo, che in questo caso però è di 349 euro, secondo me troppo alto appunto per giustificare uno smartphone che in qualche modo deve farsi un po' conoscere, apprezzare e che comunque ha qualche compromesso. Ecco, il prezzo è sicuramente il punto debole di questo Nova 9 SE che per il resto, devo dire, mi ha convinto. Per questa recensione è tutto, io vi saluto, a un prossimo video, se questo video vi è piaciuto vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notizie. e di attivare la campanella delle notizie. Grazie a tutti.